Ciao a tutti! In questo video vi mostrerò come poter tritare il formaggio per poterlo utilizzare per condire focacce, pizze, lasagne, pasta al forno. Inseriamo il boccale, inseriamo i pezzi rossolani di formaggio all'interno, inseriamo, posizioniamo il tempo in 3 secondi e la velocità a 7. Ed ecco qui il vostro formaggio tritato. Grazie e al prossimo video! Grazie! Grazie! Grazie!